Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui anche oggi ore 13.30 come sempre per parlare insieme di Fantacalcio. Ieri abbiamo visto insieme un'ipotetica rosa control, vi ho fatto anche vedere un po' di novità relative al nuovo gioco di Fantalab, Fantalab Manager. Oggi invece uno dei video evergreen di questo canale, andiamo infatti a scoprire 10 underdog della stagione 24-25 al Fantacalcio. Che cosa sono gli underdog al Fantacalcio? Ormai qui ne parliamo da più di tre anni, gli underdog sono quei giocatori che all'asta vengono considerati non dei primissimi top, non dei semi top, ma allo stesso tempo che non sono neanche gli ultimi, le scommesse, quei titolari low cost. Siamo nel mezzo, giocatori che a centrocampo possono andare dal 2% circa al 5% massimo, in difesa più o meno la stessa cosa, in attacco invece il prezzo si alza leggermente e in alcuni casi possiamo arrivare anche al 7-8% del budget. Oggi andremo a vedere 10, mischiando un po' di ruoli, ovvio che questi nomi possano essere o adatti a prescindere nel vostro tipo di rosa, qualora decidiate di utilizzare l'approccio tradizionale delle fasce, oppure se decidete di utilizzare l'approccio deck building, probabilmente alcuni di questi nomi li avete già visti in qualche archetipo presentato negli ultimi giorni. Detto questo, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, like al video, ma soprattutto iscrivetevi qui sotto al canale, che è sempre gratis. Grazie mille. Adesso ci andiamo a spostare su Fantalab e partiamo con il primo giocatore. Il primo nome, ragazzi, non poteva che essere quello di Ruggeri. L'anno scorso 0 gol, è vero, ben 5 assist però. Nome che anche in questo precampionato sta venendo sottovalutato abbastanza. È un nome che si è preso sotto al 4%, potrebbe regalare delle soddisfazioni. Gasperini e l'Atalanta in generale sembra puntarci molto. Il giocatore è ancora molto giovane, 22 anni per lui, e credo che quest'anno possa trovare la via del gol almeno in una o due occasioni. Ripeto, a questi prezzi può essere un ottimo nome. L'anno scorso ha avuto una media voto scarsa, 5,97. È stato però uno dei più titolari, schierati da Gasperini, 28 partite da titolare e 33 partite a voto. Quest'anno, appunto, da lui mi aspetto uno step successivo. Potrebbe essere un nome interessante. Per il secondo nome restiamo sempre tra i difensori e parliamo di Miranda del Bologna. Il difensore rosso-blu potrebbe essere sottovalutato nelle prime aste di agosto, dato che non è ancora insieme alla squadra di italiano. Perché? Non c'è, non perché sia infortunato, ma semplicemente perché sta disputando le Olimpiadi insieme alla Spagna. Tra l'altro è sempre titolare, in un'occasione ha fatto anche assist. È un terzino molto offensivo, che ben si adatta al tipo di gioco di italiano. E, ripeto, proprio per la sua assenza, probabilmente anche nelle prime partite di questa stagione, potrebbe essere, non dico dimenticato, ma sottovalutato sì. Anche lui, sotto al 4%, resta un'ottima presa. Perché? Perché è un giocatore da bonus potenziali. Fate attenzione a questo nome. Abbiamo detto Spagna, abbiamo detto Olimpiadi, e allora, dopo Miranda si vada a Drian Bernabé, il centrocampista del Parma, a differenza del terzino rosso-blu, non è titolare nella Spagna alle Olimpiadi, ma sarà titolare nel Parma questa stagione. Ed è quello che a noi interessa. Dovrebbe essere impiegato, la maggior parte delle volte, sulla linea dei trequartisti, anche se, ovviamente, il rischio che qualche partita da mediano la possa fare c'è. L'anno scorso, otto gol e tre assist, è stato uno dei nomi chiave per la promozione della squadra di Pecchia e quest'anno prova a fare il grande salto in Serie A. Tra le altre cose, questo è un aspetto strategico da non sottovalutare, il fatto che il suo compagno di squadra, Denis Mann, sia stato listato a centrocampo in alcune leghe, potrebbe abbassare leggermente il prezzo di Bernabé, che magari prima poteva girare intorno al 4,5-5, ora, vederlo al 4 non mi stupirebbe affatto. Tra le altre cose, se siete interessati a Bernabé e non a Denis Mann, il mio consiglio è quello di chiamare prima Mann. In questo modo andrete ad occupare uno slot ai vostri avversari, che, a meno che non vogliano fare la coppia Parma, dovranno poi rinunciare all'acquisto di Bernabé, anche se sotto prezzo. Quindi, fate attenzione a questo nome. Personalmente è un giocatore che da un punto di vista calcistico mi piace tantissimo, 23 anni, un giocatore molto bravo nello stretto, bravo nel dribbling, ha un buon tiro. Io credo che sentiremo parlare tanto di lui quest'anno. Adrian Bernabé. Due anni fa lui partiva come underdog ed è stato il miglior underdog, forse, della stagione. L'anno scorso partiva invece come top e ha flopato, probabilmente non solamente per colpa sua. Ecco, il ritorno di strefezza in Serie A è una via di mezzo tra le due annate, nel senso che non è più un nome poco noto al grande pubblico come due anni fa, ma allo stesso tempo non parte neanche con l'hype che aveva l'anno scorso. Io credo che si possa ancora parlare di underdog, magari underdog un po' alto, dato che il suo prezzo andrà intorno al 5-5,5% in alcune leghe, in altre invece dove si vanno a sottovalutare giocatori delle medio-piccole si potrebbe anche acquistare al 4-4,5%. Resta il potenziale rigorista del Como, Como che sta, come vedete, facendo un ottimo mercato, almeno sulla carta, andando però a rivoluzionare tanto della squadra che ha colto la promozione l'anno scorso, quindi forse nelle prime partite Fabregas ci metterà un po' a trovare l'amalgama tra tutti i suoi giocatori, ma a proposito di giocatori, se ci sono nomi chiave in questa squadra, Strefezza si candida assolutamente ad essere uno di questi. Nome underdog, forse nelle prime aste, dopo qualche prestazione positiva, potrebbe essere già messo di diritto tra i semi-top, fate attenzione anche a questo nome. E in questo caso invece possiamo veramente parlare di underdog pieno, perché a differenza del suo compagno di squadra è un nome molto più nascosto, soprattutto in leghe di medio-basso livello, da Cugna però l'anno scorso 7 gol e 6 assist. Andrà a un prezzo inferiore rispetto a quello di Strefezza, me lo aspetto in tante leghe dal 2 al 4% circa, ma ha tutto per essere un ottimo underdog quest'anno. L'anno scorso è stato uno dei più titolari, 35 partite a voto, di cui 32 da titolare, ha caratteristiche diverse da Strefezza, può giocare sia esterno sia da trequartista, ma se vi andate a vedere un po' le partite dell'anno scorso del Como, spesso era il giocatore che ti ritrovavi nell'area avversaria. Molto bravo negli inserimenti, molto bravo appunto quindi a trovare la via del gol, anche lui potrebbe essere un ottimo underdog per le nostre rose al fantacalcio. Per il sesto nome andiamo in casa Inter e parliamo di Taremi, che nei giorni scorsi ha avuto un piccolo problema fisico, che lo terrà fermo circa un paio di settimane da quello che ho letto, e questo potrebbe essere utile anche per pagarlo un po' meno nelle prime aste del fantacalcio. Si può parlare di underdog in questo caso? Beh, secondo me sì, perché nelle aste sta andando a un prezzo sotto al 10%, in alcuni casi al 5%, in altri all'8%, in altri ancora al 9%, in altri al 7%, dato che stiamo parlando di attaccanti, è comunque ancora un prezzo da underdog. Dico che si tratta di un'analisi riferita a questo momento, perché Taremi, il classico giocatore, come detto nel video sui giocatori chiave, che qualora dovesse fare un bonus nelle prime partite, ma attenzione perché la prima la potrebbe saltare, ecco lì che il suo prezzo andrebbe a schizzare oltre il 10%. In questo momento è ancora un underdog. Perché allora consigliarlo? Perché con un prezzo sotto al 10% ha un ottimo margine per andare a overperformare. Dovrebbe essere, almeno in teoria, il terzo attaccante per Inzaghi lì davanti, Lautaro e Turam. Sappiamo che sono i titolari, ma sappiamo anche che poi, strada facendo, l'Inter avrà tantissime partite quest'anno. E mi aspetto da parte di Inzaghi un cambio quasi sistematico intorno al sessantesimo o settantesimo di questo giocatore qui. Ovviamente se lo prendete, anche quando non viene dato titolare, il giocatore va schierato con copertura. Altrimenti vi andrete a bruciare gran parte dei suoi bonus. Giocatore quindi da gestire senza switch, giocatore su cui puntare se il prezzo non sale oltre il 10%. Ricordatevi sempre che le aste di settembre poi spesso hanno prezzi diversi da quelle dei primi di agosto e quindi se state vedendo questo video a settembre probabilmente non si potrà più parlare di Taremi Underdog. Settimo nome. Andiamo in casa Lazio. Parliamo ovviamente di Ciaunà. L'anno scorso 4 gol e 3 assist in una situazione disastrosa come quella della Salernitana. Quest'anno arriva la Lazio. È vero, non ha il posto garantito da titolare. Da quella parte si giocherà al posto con Isaksen ma la Lazio ha le coppe. Baroni sicuramente andrà a fare un po' di turnover e tra i centrocampisti lui è quello che anche guardando Lightmap si capisce che può avere una propensione offensiva maggiore. È un nome che personalmente mi è sempre piaciuto anche l'anno scorso a Salerno. Se preso sotto al 5% si candida ufficialmente ad essere un ideale underdog su cui puntare. L'ottavo nome è quello di Maldini. Un alto centrocampista e non è un caso. Ogni stagione il maggior numero di underdog si trova sempre a centrocampo. Fatta attenzione. L'anno scorso 4 gol e 1 assist ma solamente 16 partite a voto di cui 5 da titolare. Ha saltato 10 partite circa per infortuni. Se quest'anno riuscisse a trovare un po' più di continuità nel Monza dove si candida ad essere un giocatore importante per Nesta potrebbe sicuramente migliorare il proprio bottino. È un nome che si paga molto poco in questo momento l'ho visto andare al 2% al 3% esagerando al 3,5% classico prezzo da underdog basso scommessa alta ecco un giocatore che ha quelle caratteristiche in una squadra dove saltare l'uomo diventa veramente molto molto importante data l'assenza la partenza di Colpani beh potrebbe veramente figurare a fine anno tra gli underdog migliori di questa stagione. Il penultimo nome è quello di Adams del Torino. In uno dei primi UWFU fatti quest'estate voi in chat in live l'avete messo nella tier list nella categoria giocatori inutili beh ragazzi io non sono assolutamente d'accordo questo giocatore l'anno scorso è vero era nella serie B inglese quindi non in premier ma ha fatto 16 gol e 4 assist e anche negli anni precedenti in premier ha sempre fatto 4, 5, 6, 7 gol sappiamo benissimo che spesso giocatori che arrivano da quel tipo di calcio poi fanno bene nel nostro campionato sappiamo benissimo che il gioco di Vanoli è un gioco offensivo sappiamo benissimo che Sanabria che sulla carta doveva essere la seconda punta vicino a Zapata non è propriamente un attaccante molto continuo durante la stagione ipotizzare che Adams possa diventare il titolare lì vicino a Zapata non è affatto utopia anzi è ovvio è ovvio è un nome da pagare poco nelle aste sta andando al 3, 4 esagerando 5% siamo assolutamente nella fascia bassa degli underdog in attacco ok? ma assolutamente può essere considerato un bel underdog in alcuni casi forse lo potreste addirittura pagare come una scommessa come decimo nome vi avrei potuto fare quello di Oristanio ma ne abbiamo già parlato nel video dei bug quindi mi sembrava un po' una ripetizione e allora mi faceva piacere parlarvi di Suslob 22 anni l'anno scorso già all'attivo 3 gol e 5 assist non fate troppo affidamento sul discorso Rigori perché lì in questo momento a Verona è un po' nebulosa la situazione li batte lui li batte Arrui li batte Lazovic come è accaduto in amichevole si vedrà ma al di là del discorso Rigori è comunque un giocatore da tenere d'occhio giocatore che l'anno scorso è stato un po' di scontinuo ha avuto partite da 10 10 11,5 ma alcune anche da 4,5 5 quindi alti e bassi ha un anno in più potrebbe essersi adattato al nostro campionato e quindi anche da parte sua mi aspetto quello scalino in più quello step che può farlo effettivamente diventare un vero e proprio underdog il suo prezzo è molto basso nelle aste analizzate in quelle che sto vedendo in questi giorni gira intorno al 3 esagerando 4% quindi a livello di prezzo ci siamo in pieno il potenziale ce l'ha vedremo come alcuni di voi avranno notato pochi difensori e pochi attaccanti perché? perché ne abbiamo già parlato nel video sulle fasce e anche in live tanti difensori che potevano essere degli underdog anche a livello di prezzo data la scarsità di offerta in questo momento del listone sono già stati alzati nelle categorie più alte pensiamo a Cambiaso ma anche a Bellanova e a Dodò stesso discorso in attacco c'erano altri potenziali underdog ma in questo momento stanno girando a prezzi come l'11 12 anche 13% ad esempio è il caso di Dallinga quindi parlare di underdog in questo caso mi sembrerebbe un po' forzato ragazzi questi erano i 10 underdog almeno per ora a inizio agosto consigliati al fantacalcio sappiate che stanno per arrivare anche le 10 scommesse ci sarà un video anche dedicato ai potenziali cigniniere di quest'anno fate attenzione perché lì poi si vince il fantacalcio io vi saluto vi ringrazio mi raccomando like mi raccomando iscrivetevi qui sotto al canale che è sempre gratis noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima live ciao ciao